Civitela del Tronto dal 18 al 24 ospiterà questa manifestazione appunto denominata il Borgo di Birra. È alla terza edizione questa manifestazione, sta crescendo, già dall'anno scorso abbiamo notato una grande affluenza di turisti. La particolarità poi di quest'anno che aggiunge ancora maggior fascino a questa iniziativa è il fatto che ci sarà un'apertura in notturna della Fortezza, per cui nei giorni 22, 23, 24 la Fortezza sarà visitabile unitamente anche agli altri musei cittadini anche durante l'orario notturno. Ci sarà la possibilità di fare delle visite guidate in Fortezza, quindi poter apprezzare anche il valore storico e architettonico della Fortezza. Quest'anno crescono anche le birre, oltre 60 birre sempre artigianali, sia italiane che straniere. In particolare non ci siamo neanche dimenticati dei celiaci, per loro infatti sono previste due birre in particolare. Aumentano anche i punti gastronomici, sempre diciamo della zona, con ognuno dei quali porterà e appunto preparerà dei prodotti tipici, locali. Anche per i celiaci ci sarà una pizza a loro dedicata, in particolare preparata dalla vice campionessa mondiale della pizza appunto senza glutine. Il percorso che comunque si è oramai costituito sempre ad anello, ma viene allargato, si arriva fino in fondo al corso quest'anno, con la fortuna di poter entrare in una delle dimore storiche appena restaurate, che è il Palazzo Procaccinisari. E' una dimora rimasta praticamente perfetta, come era nel Seicento. Sarà possibile inoltre entrare in alcuni locali di quella che era la casa di Luigi Vinci Guerra. Restano sempre aperte le scuderie che avevamo già iniziato a recuperare negli anni passati, quindi c'è una maggiore attenzione anche nella possibilità di far visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico a chi farà questa lunga passeggiata intorno a Civitella. La birra, il cibo, quella che è un pochino la nostra storia, tutte unite fanno di questa rassegna un unicum che la rende un pochino diversa da quelle che si trovano in giro.